Weekend di riposo per il Gela Calcio e per il Gela Calcio a 5, con il primo, sesto in classifica, sopra la zona play-out di appena 5 lunghezze, che dopo la sconfitta a Mazzarrone all'esordio con Pezzabeni in panchina, tornerà a giocare a Vincenzo Presti domenica 7 aprile contro la Leonzio. La squadra di Fuzzle invece, già retrocessa in Serie C1, ospiterà il Palalivatino il 6 aprile all'Arcobaleno Ispica. Impegnata domenica al Palazzetto Gelese invece la Melfast Basket, prossima avversaria della Cus Palermo. La squadra locale, quarta in classifica a pari punti con l'invicta di Caltarissetta, viene dalla prima sconfitta in campionato dopo 20 punti totalizzati consecutivamente, frutto di ben 10 vittorie e 0 sconfitte da metà gennaio. Dati che parlano chiaro e sono la prova della compattezza e dell'enorme qualità di cui è dotata la squadra di coach Salvatore Bernardo. Adesso però toccherà affrontare l'ottava in classifica, bisognosa di vittoria per un posto in zona playoff a quattro giornate dalla fine e soprattutto tornare al successo per consolidare il quarto posto, sperando anche in una sconfitta della squadra nissena, impegnata in trasferta nel big match contro l'Alfa Catania. La gara si giocherà domenica al Palalivatino alle 19. Per quanto riguarda la palla a volo, per l'ultima giornata di Serie C maschile è in programma per l'Ecoplast. La compagine bianco-rossa affronterà oggi a Figrazi la Volley Valle, capolista del girone B con 40 punti totalizzati sinora in campionato. All'andata fu proprio la squadra etnea a battere per prima la squadra inglese tra le mura del Palalivatino, col punteggio di 2-3. L'Ecoplast, seconda in classifica a più 5 dalla quarta, con un punto otterrebbe arritmeticamente un posto in playoff per la Serie B, dove affronterà con ogni probabilità la gupa ai volley. Anch'essa, seconda in classifica a pari punti con la squadra locale. Ad inseguire le due vice capolista sono la new image di Giarre, quarta a meno 5, e la farmacia Schultz, quinta a meno 6.